Due anni è il tempo che rimane i concessionari demaniani prima di vedere gli stabilimenti finora gestiti divenire oggetto di procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio. Questo sancisce il Consiglio di Stato sulla direttiva Bolkestein, disattesa per 15 anni dall'Italia. Per ora le concessioni saranno prorogate fino al 31 dicembre 2023, dopodiché si entrerà in regime di concorrenza in cui chiunque potrà partecipare per avere la gestione degli chalet. Sul fronte si teme l'arrivo delle multinazionali che potrebbero fare incetta di concessioni. Come Assoturismo stiamo seguendo momento per momento questa situazione che è veramente di una gravità assoluta e tramite FIBA stiamo contattando la politica, interloquendo con tutte le forze politiche. E posso dire già ora che nulla sarà lasciato di intentato in ogni sede giudiziaria ed in ogni sede possibile. Quello che sta accadendo in realtà è che si sta veramente instillando il principio della possibilità di espropriare delle aziende. Si tratta di difendere il lavoro sostanzialmente. Fra poco ci troveremo di fronte a delle aziende, a delle persone che non potranno più lavorare e che magari hanno dei mutui ancora per dieci anni. Perché fino a poco fa erano stati firmati dei contratti con il governo che prevedevano la possibilità del 2033 come messa a bando di queste aziende. In ogni caso un'altra cosa veramente importante ed è il principio che non deve assolutamente passare è che le aziende possano essere valutate in quanto solo come valore degli investimenti o valore aziendale. Il valore dell'azienda non è solo il valore dell'investimento fatto ma è il valore di avviamento, quel valore che viene da decenni di lavoro degli operatori che hanno costruito un valore aziendale molto più ampio rispetto a quello che può essere solamente il valore dell'installato e il valore degli investimenti. Questo principio non deve assolutamente passare, le aziende devono essere valutate per quello che è il loro effettivo valore così come è una bufala quella che non è vero che le multinazionali non siano interessate alle nostre spiagge. Lo sono e vi faccio l'esempio di quello che è successo a Centropea in Francia dove quattro grandi gruppi commerciali controllano la totalità delle spiagge con un aumento esponenziale dei costi ed una effettiva riduzione dei servizi. Nessuno può sostituire il titolare dell'azienda.